Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica insieme. Siamo nel pieno dell'estate quindi tante sono anche le manifestazioni, le sagre che si svolgono sul nostro territorio proprio per fare comunità, convivialità, per stare assieme all'interno dei tanti contesti locali. E quest'oggi vogliamo parlare di un'esperienza che ormai è una tradizione, ossia la sagra di San Bartolomeo a Salce. Salutiamo quindi due giovani rappresentanti del comitato organizzatore che sono venuti a trovarci. Saluto Luca D'Arold, ben trovato, ciao Luca. Ben trovato, grazie, ben trovati a tutti. Accompagnato da Jessica Bettiolla, anche lei del comitato organizzatore della sagra di San Bartolomeo. Ben trovata Jessica. Grazie, ciao a tutti. Mi permetto di darvi del tu ragazzi perché siete giovanissimi, ancora più giovani di me e quindi insomma diventa anche un po' più facile magari fra di noi darci del tu per raccontare quindi alcune delle novità o comunque gli aspetti che caratterizzano appunto questa manifestazione. Comincerei con Jessica. Luca, facciamo i cavalieri, vero? Certo, volentieri. Procediamo. Oggi sei anche in minoranza quindi decidiamo noi. Volentieri. Allora cominciamo con Jessica con raccontare un po' la tradizione di questa sagra. Se la dovessi descrivere magari a chi non la conosce. Sì, allora siamo alla ventunesima edizione perché siamo partiti nel 2000, poi abbiamo avuto i tre anni di stop per il Covid che non era possibile per le restrizioni. L'anno scorso abbiamo ripreso ed è stato molto bello perché è stata molto partecipata e vissuta bene e quindi ci ha dato la carica per continuare ancora con più entusiasmo. Ed è una tradizione che portiamo avanti da sempre perché Salce ha tanti gruppi e siamo una comunità unita e questo porta anche tanto a fare socialità, a voler fare gruppo, a trovarci. E quindi questa sagra è mossa da molti volontari perché siamo un centinaio che ci dividiamo in tutta la settimana prima e dopo perché sono tre giorni di sagra ma sono molti giorni prima di preparazione. Quindi c'è tutto l'allestimento e ci sono tutte le pietanze da preparare, tutta la burocrazia eccetera. E quindi sono tanti volontari, tante persone che hanno voglia di fare e di continuare a fare per portare avanti questa tradizione a Salce. Ecco, ricordiamo subito le date che non le abbiamo ancora dette, Jessica. Si parte il venerdì 23 con la cena e poi ci sarà un po' di musica. Mentre il sabato facciamo sia la mattina perché ci sarà la messa tradizionale del nostro patrono, poi ci sarà un pranzo e inizierà il pomeriggio il torneo. Poi ci sarà la cena con la musica anche la sera e poi sarà domenica 25 dove chiuderemo con il pranzo. Ecco, quindi 23, 24, 25 agosto come stiamo vedendo anche dalla Lucandina presso il campo sportivo di Salce. E' bello vedere comunque voi siete due ragazzi giovani, è bello vedere come ci sia appunto questo coinvolgimento perché tante volte magari i giovani non sono anche così attenti diciamo no? D'avere delle responsabilità, preferiscono fruire della sagra e invece voi siete forza lavoro ecco diciamo così. Cosa vi spinge a farlo? Per esempio tu Jessica raccontaci un po' la tua storia. Perché a Salce c'è sempre stato il gruppo giovani quindi siamo sempre stati accolti dalle persone più grandi di noi e ci hanno sempre guidato e ci hanno trasmesso questi bei valori della socialità e dello stare insieme, del fare comunità che ci rappresenta. E quindi ci sono molti giovani che sentono l'appartenenza a questa parrocchia e che hanno voglia di fare e quindi ci diamo sempre una mano senza ovviamente dimenticare le nostre guide con più esperienza che danno le idee e poi noi aiutiamo. Ecco questo è importante, un bel esempio. Adesso andiamo da Luca D'Arold che ci racconta anche di un elemento che è proprio caratteristico, l'abbiamo visto anche nel manifesto, è la pallavolo, no? Cioè ritratto una persona intenta a fare una schiacciata, giusto? Sì, la pallavolo diciamo il torneo è un po' l'anima poi anche della sagra e l'obiettivo della manifestazione è anche quello di trasmettere i valori dello sport, dell'amicizia, dello stare bene insieme, quindi dal lontano 2000 si trascina questo torneo che negli ultimi anni ha preso il nome di Sole Luna Volley. Perché il Sole Luna? Perché nasceva come 24 ore, quindi si giocava dal sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio ininterrottamente anche durante la notte. Poi diciamo non era più sostenibile questo arco temporale così lungo e quindi è stato spezzato e quindi si gioca fino più o meno il sabato sera quando sorge la luna e poi si interrompe e si ricomincia la domenica mattina per terminare più o meno verso le 5 del pomeriggio con le premiazioni. Ecco abbiamo forse anche delle immagini che ci raffigurano un po' alcune passate edizioni di questa manifestazione, vediamo alcuni scatti, anche qui età variegati, possono partecipare un po' tutti o è solo per una fascia specifica? Allora per il torneo classico diciamo dai 15 anni in su sono squadre da tre persone in campo, una donna sempre presente, le squadre possono arrivare fino a 5 componenti, le iscrizioni sono già aperte, sono tuttora aperte, si può contattare Roberto Burigo che è un po' il responsabile del torneo e che segue le iscrizioni, ma soprattutto la domenica, l'anno scorso è stato molto apprezzato, quest'anno lo riproponiamo, è il torneo Under 14 quindi per i bambini, quindi per trasmettere come dicevo prima i valori già fin da piccoli, ci sono attualmente 7 squadre iscritte, speriamo di aumentare il numero in questi giorni, il riferimento è Marco D'Antimo per le iscrizioni, un torneo ripeto l'anno scorso molto apprezzato, molto partecipato, molte anche le famiglie che hanno partecipato insieme ai bambini, quindi è stato veramente un bel momento, una bella domenica mattina trascorsa in compagnia tutti insieme. Ecco questo è l'aspetto importante insomma per fare comunità e poi un altro momento significativo proprio per questo concetto penso sia il pranzo dei nonni, abbiamo una bella immagine che ci raffigura questo pranzo dello scorso anno, vero? Questi sono proprio i nostri nonni della parrocchia a pranzo presso il capannone allestito al campo sportivo di Salce che gustano diciamo le prelibatezze che la nostra cucina prepara molto volentieri per loro, è un pranzo che anche questo si trascina da molti molti anni, è storico ormai a Salce offrire un pranzo ai nonni che sono sempre più importanti nella nostra comunità, ma anche nel mondo mi viene da dire abbiamo celebrato da poco la festa dei nonni, insomma noi ci teniamo particolarmente ai nonni e prima del pranzo siccome la sagra è in onore di San Bartolomeo, il 24 agosto è San Bartolomeo e quindi ci sarà anche la solenne messa le 10.30 celebrata da Don Giorgio Aresi dal nostro parroco in chiesa parrocchiale animata dalla nostra corale. Ecco anche qui abbiamo una fotografia dello scorso anno della messa che magari possiamo vedere, così rivediamo anche Don Giorgio che per noi è un volto noto perché appunto ci accompagna settimanalmente nella lettura. Questa è una foto di qualche anno fa, di qualche anno fa, però insomma è un volto per voi noto. Esatto, che conosciamo bene, grazie ancora Don Giorgio sempre per l'aiuto che ci offre nella lettura dei giornali e dei bollettini parrocchiali. E poi si diceva anche la gastronomia comunque che è molto sentita, vero? Beh sì, salsa è conosciuta per l'astronomia, per la buona cucina, per i piatti tipici, anche abbondanti diciamo, siamo conosciuti per le porzioni abbondanti e questo ci fa piacere perché il pubblico che viene a visitare la nostra sagra ci dà veramente un buon feedback, ci restituisce molti complimenti e questo ci fa onore e ci fa piacere. Ecco, allora stiamo vedendo alcune immagini, abbiamo anche i volontari delle cucine che insomma c'è sempre un bel esercito, vi viene quasi da dire, di persone che armate di mestoli, armate degli strumenti per far da mangiare, sono pronti? Esatto, sono tre giorni, sono solo tre giorni ma sono tre giorni molto impegnativi ma è anche bello perché poi in cucina mentre si preparano le pietanze si sta insieme, si parla, si fa squadra, si fa gruppo e si trasmettono dei bei valori e questo è molto bello, c'è una bella, si crea un bel ambiente, una bella armonia in questi tre giorni. Forse dobbiamo puntualizzare Luca che la messa sarà animata da una formazione particolare se non sbaglio. Dalla nostra corale parrocchiale San Bartolomeo sì, che anche questa è un'istituzione storica a Salce che anima tutte le feste più importanti e quindi anche quella di San Bartolomeo. Ecco, ritorniamo invece da Jessica, anche qui c'è un piacere di partecipare, che messaggio ti verrebbe da dare magari ai giovani che ci stanno ascoltando e che magari non sono mai stati questa manifestazione? Che è un modo per stare insieme e per divertirsi e quindi avere un posto dove stare per poter chiacchierare, mangiare, guardare le partite appunto perché alla fine lo sport è sempre una cosa che unisce e quindi ci si può divertire stando insieme insomma. Dobbiamo ricordare però anche la finalità benefica di quello che fate. Sì, anche questa manifestazione è per raccogliere dei fondi e di solito li raccogliamo per la nostra parrocchia, in questo caso per rifare uno spazio per l'asilo. Quindi noi abbiamo un asilo parrocchiale che è molto sentito all'interno della parrocchia perché tutti ci diamo da fare per l'asilo e infatti le manifestazioni servono anche per questo. E quest'anno infatti abbiamo deciso di devolvere il ricavato per rifare il parcheggio in modo che i genitori e le famiglie possano venire tranquillamente insomma e avere uno spazio dedicato anche a questo. Ecco, quindi insomma è importante partecipare anche come comunità proprio per sostenere poi i servizi che vengono offerti sul territorio. Abbiamo detto un po' tutto, quello che vi sembra significativo ragazzi, volevate aggiungere qualcosa magari? Beh, farei un invito visto che abbiamo parlato di giovani, farei un invito a tutti i giovani a partecipare alla manifestazione sia come fruitori della manifestazione ma anche come volontari proprio perché è bello collaborare e raggiungere insieme uno scopo. Ecco, allora abbiamo detto, vediamo l'ultima volta assieme la Lucandina dove ha indicato anche l'indirizzo mail che ricordo di Roberto Burigo per le iscrizioni anche al torneo sulle Luna Volley. Quindi roberto.burico.gmail.com per appunto partecipare a questa iniziativa e poi il programma come ci hanno anticipato Luca e Jessica. Grazie quindi ragazzi davvero di essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi. Buona estate, portate un caro saluto naturalmente a tutto lo staff dell'associazione. e noi ci ritroveremo naturalmente assieme prossimamente per continuare a seguire le tante belle iniziative sul territorio. Grazie. Vi aspettiamo a salce. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.